Per i 60 lavoratori della Framiva che dallo scorso luglio percepiscono l'indenità di disoccupazione, si apre uno speraio per il futuro. Perché il curatore fallimentare Exote Fallomero Martella ha concluso la vendita dello stabilimento che si trova a Bazzano. La struttura è stata acquistata da un'azienda spagnola, la Lux Perfil, per 8 milioni di euro. Questa azienda era arrivata a seconda all'asta fatta nel 2015, con cui il sito industriale era stato rilevato dalla Framiva, azienda di Varese. I sindacati seguono passo passo questa vicenda di pochi giorni fa l'appello della Wilma, ad esempio. Nel frattempo è stato risolto il contenzioso sulla proprietà della fabbrica, che è tornata nelle mani dunque del curatore fallimentare Exote Fall Martella, dopo la vicenda legale scaturita dal mancato versamento dell'ultima rata da parte di Framiva. La vendita per i sindacati tutti è un'ottima notizia, perché apre la strada alla ricollocazione dei lavoratori e per questo la speranza, anche se i tempi potrebbero non essere brevissimi per rimettere in moto i macchinari, è di riattivare al più presto la produzione, come sottolinea anche Gian Paolo Biondi della FIMCISL, anche perché gli operai attendono ancora di prendere i soldi del fallimento Exote Fall. Ieri sera abbiamo avuto la conferma da parte della curatela Exote Fall della vendita a lux dello stabilimento di Bazzano, che dà uno spiraio ai lavoratori dello stabilimento delle 60 famiglie per una ripresa lavorativa. Noi ci auspichiamo che la ripresa sia attuata nel più breve tempo possibile, anche perché tutto l'impianto di fonderia è fermo ormai da un anno e non sarà facile farlo ripartire. Ci auspichiamo altresì che l'azienda, la Lux, alla quale chiederemo unitariamente un incontro prima possibile, riesca a riattivare l'impianto per riassumere poi quelle persone che conoscono già l'impianto e che sono comunque professionalmente alte come lavoratori. In realtà dell'interesse della Lux Perfil, azienda Caseda Valencia che si occupa della lavorazione dei metalli, si parla già dal mese di aprile. Questa azienda spagnola conosce il territorio aquilano perché a Bazzano ha la sua Lux Coat, che si occupa della verniciatura dell'alluminio.